Ciao bambini, oggi andiamo a conoscere tanti simpatici animaletti. Il capriolo, il daino e se siamo fortunati anche il cinghiale. Seguitemi. Per vedere i nostri amici animali è importante usare dei punti di osservazione come questo, che si chiamano altana. Dovremmo aspettare fino al tramonto in silenzio, perché a quell'ora gli animali escono dalle loro tane alla ricerca del cibo. Eccoci sull'altana. Non ci rimane che aspettare in silenzio i nostri amici animali. Ecco, vedo muovere qualcosa là, in mezzo alla radura. È una famiglia di caprioli. Il capriolo è un animaletto molto timido e solitario, che adora vivere nei folti boschi dell'Appennino. Durante il giorno se ne sta nascosto, ma al tramonto esce per mangiare un po' d'erbetta fresca e odorosa. Il capriolo è adatto alla vita nei boschi, perché è molto piccolo, è infatti alto solo 70 centimetri. Il suo palco, sono chiamate così le sue corna, è piegato all'indietro per non incastrarsi nei rami. I suoi colori gli permettono di mimetizzarsi bene. Infatti non è molto facile osservarlo. Guardate cosa c'è da questa parte! Che fortuna, bambini! Un bel gruppo di daini, i cuginetti dei caprioli. Il daino si ciba di foglie, gemme e rametti teneri, ma non disdegna la frutta selvatica e le piante erbose. Schivo e pauroso, vive all'interno di faggete, boschi di querce e di acero, ma ama trascorrere molto del suo tempo nella radura a poca distanza dal bosco, dove può giocare a rincorrersi. Ed è uno spettacolo poterli osservare! Da questa altana, bambini, abbiamo osservato tantissimi animaletti. Ma non è tutto. Dopo una breve passeggiata, arriveremo al laghetto delle anatre. Eccoci arrivati al laghetto delle anatre. L'acqua è importante per le nostre amiche. Durante il lungo viaggio che le porta da nord a sud e che si chiama migrazione, arrivano qui, in questo specchio d'acqua. Si riposano, si rinfrescano e giocano fra loro. Mi sembra di sentirle arrivare. Bambini, se stiamo in silenzio, potremmo osservarle da vicino. Eccole, eccole planare in gruppo. Questa specie di anatra è chiamata Germano Reale. Il maschio si distingue dalla femmina per il vario pinto colore delle sue piume, che si chiama Livrea. La testa del maschio, di un inconfondibile colore verde, proprio come una bottiglia, e il suo collare bianco, sono proprio unici. Questi animaletti si alzano dall'acqua sbattendo rapidamente le ali senza correre. Mangiano nuotando, immergendo la testa nell'acqua. Si cibano di semini, di alghe, insetti e molluschi. Caprioli, daini, germani reali, quanti animaletti abbiamo conosciuto. Per oggi è proprio tutto. L'appuntamento alla prossima avventura.